spero tu non abbia picchiato dentro nello spigolo in questi giorni ma se lo hai fatto fate pure il casino che vi pare qui non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanellina sapere i nostri pota verbs è un ottimo modo per conoscere le esortazioni dei cittadini di esige dire t'ansè ma che te che 30 anni se hai avuto la stessa disavventura di francesca e sei ancora piegata in due dal dolore ho preso dentro lo spigolo ma stai per conoscere un manzo che ti vuoi assolutamente accaparrare sappi che la tua amica di berzo demo potrebbe esortarti in questo modo non farti troppe domande raddrizzati immediatamente e tira fuori il tuo fascino d'ammantide religiosa infatti la tua amica ti sta incoraggiando a fai apparir di niente il significato ormai dovrebbe essere chiaro ma se ancora ti sfugge ecco quello che ti ha detto fai finta di niente fai finta di niente in me che non si dica il manzo sarà in tuo potere sei a orio center con la tua fidanzata di malonno state scegliendo tra i vestiti qualcosa di carino lei ti dice mi raccomando tu che stai con lei da tre anni ma ancora non hai capito come parlano questi bresciani potresti rimanere un po' confuso oppure confusa tranquillo oppure tranquilla non è altro che la traduzione letterale di mi raccomando cata fuoco il giusto sappi che cattare fu usato persino da d'annunzio due fanti che cattavano le gocciole nel cavo la tua fidanzata ti sta semplicemente dicendo mi raccomando scegli quello giusto cara santa lucia che nella notte tra il 12 e il 13 dicembre farai felici migliaia di bambini bergamaschi bresciani, veronesi ma anche siciliani semmai dovessi passare anche da me con un pensiero mi raccomando cata fuoco il giusto donaci un like e se sei un commesso di negozi di abbigliamento di orio center suggerisci altri potaverbs oh ma lo sai che un tizio mi ha spammato il canale youtube caricando nei commenti il link a un video quasi porno è solo la traduzione letterale di grazie a tutti